Sì, se io rivedendo ti, così che da qui non soffri, ti rivedrai. Se guardandoti negli occhi, sapessi che ti basta, ti guarderai. Sì, ma non so spiegarti che il nostro amore è appena arrivato, e non finì, e tu, ehi. Se ti ricordando, io potessi dirti addio, ti chiamerai. Sì, se io rivedendo ti, così che da qui non soffri, ti rivedrai. Sì, se guardandoti negli occhi, sapessi che ti basta, ti guarderai. Sì, ma non so spiegarti che il nostro amore è appena arrivato, e non finì. Sì, se guardandoti negli occhi, sapessi che da qui non soffri, ti chiamerai. Alias, benveni, e Gianni Freschi, zucchero. Quindi, io sto per presentarvi il secondo ospite, che è Gianni Freschi, al quale va un grossissimo applauso da parte nostra e nostra. Grazie. Grazie a voi. Gli attina, un grandissimo applauso. Grazie, grazie, bellissimi. Però speriamo che c'è qualcuno che mi faccia scegliere. Antonio, fai scegliere. Ecco, dice lui. Nel mondo, io camminerò, tanto che poi, i piedi mi faranno male. Io camminerò un'altra volta. E a tutti io domanderò, a qui che risposte no, non ce ne saranno più. Io domanderò un'altra volta. E almeno in modo che il mio cuore mi farà tanto male, tanto che come il sole all'improvviso scoppierà, scoppierà. Nel mondo, io lavorerò, tanto che poi le mani mi faranno male. E almeno in modo che il mio cuore mi farà tanto male, tanto che come il sole mi farà tanto male, l'improvviso scoppierà, scoppierà.